La pensione For You fu un'idea di nostra madre, l'apertura della pensione For You fu un'idea di nostra madre, ma anche mia, nel senso che quando nostra madre, vedova, rimasta vedova da parecchi anni, tanto legata e tanto unita ai suoi figli, sentì nell'aria la possibilità che sia suo figlio Pupi, primo genito, che se ne era già andato da casa perché si era già sposato e aveva messo su famiglia, che però continuava a frequentare casa nostra in maniera molto frequente, e il figlio più piccolo che ero io, che era rimasto a vivere con lei, stavamo forse per abbandonare Bologna per provare una carriera cinematografica totalmente romana, quindi andare a risiedere a Roma, ebbe talmente il terrore di essere abbandonata a Bologna da sola, per cui si inventò a 57 anni, che per gli anni 60, per 57 anni voleva dire essere molto molto grandi, quasi anziani, quasi vecchi, non è come adesso, che i sessantenni sono considerati come i quarantenni di allora, le venne questa idea di aprire questa pensione nel centro di Roma, allora io e mia madre, io giovane, 20enne, mia madre, 57enne, partimmo con il treno, ci si metteva 5 ore e mezza da arrivare da Bologna a Roma, con il treno per Roma, leggemmo il messaggero e fra i vari annunci di vendersi licenze, c'era appunto una pensioncina che si chiamava pensione pasquale di Via del Babuino che sarebbe stata ceduta perché il proprietario di quella pensione era in me deceduto e la vecchia vedova non ce la faceva mandarla avanti da sola. Andammo direttamente a Via del Babuino, ci informammo con dei nostri amici bolognesi che conoscevano bene Roma se la zona poteva essere una zona buona e tutti si assicuravano che era una zona centralissima, quindi ottima. Trovammo questa pensione molto molto fattiscente, molto molto lasciata andare, poi il nome stesso pensione pasquale non c'entrava assolutamente niente né con noi né con la nostra famiglia, poi era un nome più meridionale voglio dire che nordico, emiliano come erano le nostre origini, quindi poi io avevo un po' la mania dell'America, mi piacevano un po' molto provincialmente naturalmente questi riferimenti americani, esotici eccetera, mi venne a me l'idea di chiamarlo un po' così banalmente pensione for you, vendendo l'ultima casa, l'ultimo appartamento che c'era rimasto a Bologna, a San Lazzaro di Savena nell'estremo periferia bolognese, comprammo questa licenza e rimettemmo completamente, ristrutturammo completamente sia l'arredamento che gli interni di questa vecchia pensione, riuscì a conquistare la simpatia della direttrice olandese di una scuola americana di studenti americani, Art Tyler School della Temple University che stava a lungo Tevere a Nardo da Brescia, per cui lei stipulò un contratto con la nostra pensione e con noi per affidarci questi studenti, 7-8 mesi all'anno, studenti che venivano in Italia con una scholarship, con una borsa di studio praticamente, quindi unì l'utile al dilettevole aiutai mia madre nella gestione della pensione e devo dire che mi fidanzai anche con qualcuna di queste studentesse perché spesso ci capitavano anche delle ragazze abbastanza carine e che forse venivano in Italia non soltanto per imparare la scuola dell'arte ma anche per divertirsi un po', quindi mi andò anche bene in quel senso.